dai no 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 dai tutta la notte che mi esercito per non commuovervi, per favore dai no 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 dai tutta la notte che mi esercito per che non commuovervi per favore e quando mi dicono chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Non lo so. Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Potevo starmene a casa, sì. Non lo so. Uno della sinistra ha un certo clavolo, uno che ha un clavolo solo, ha detto. Se Grillo vuol far politica, toglie il tuo partito, metta in piedi un'organizzazione e perché non lo fate. Se Grillo vuol far politica, si presenta all'elezione, vediamo quanti lo ti prende e perché non lo fate. Fermi! Questa gente sta denirando! Non datevi questo compito! E perché non lo fate? E quando mi dicono chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Non lo so. E perché non lo fate? Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Potevo starmene a casa, sì. E perché non lo fate? Se Grillo vuol far politica, toglie il tuo partito, mette in piedi un'organizzazione e perché non lo fate? Se Grillo vuol far politica, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fate. Allora il mio grido, il mio grido è, il mio grido è arrendetevi! Siete circondati dal popolo italiano! Non ce la fate più a fermare! È un'epidemia! Se Grillo vuol far politica, toglie il tuo partito, mette in piedi un'organizzazione e perché non lo fate? Se Grillo vuol far politica, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fate. Per i tre anni siamo diventati la terza, la seconda, la prima forza politica del paese! Se Grillo vuol far politica, toglie il tuo partito, mette in piedi un'organizzazione e perché non lo fate? Se Grillo vuol far politica, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fate. Vediamo quanti voti prende e perché non lo fate. Ma carone, l'hai prorogato e io li distruggo adesso, ma carone. Io me le capture44.000. Ma era un'epidemia politica 292 Doveoso io li ha un'epidemia È un'epidemia e davvero